Smantellata l'associazione a delinquere che trafficava farmaci di provenienza illecita a livello internazionale. L'operazione dei NAS di Latina ha eseguito 18 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti. Il provvedimento ha toccato anche la nostra città. Uno degli indagati è domiciliato in provincia per motivi di lavoro nella canteristica. Su di lui pende ora l'obbligo di presentarsi davanti alla polizia giudiziaria. Il sodalizio, con sede in provincia di Napoli, utilizzava ricette mediche false per acquistare a costo zero farmaci particolarmente costosi. Farmaci destinati a cure particolari come il Parkinson o l'epilessia, che una volta acquistati venivano spediti nel Regno Unito per essere messi in commercio in maniera apparentemente legale. La collaborazione con le autorità inglesi ha reso possibile il tracciamento dei flussi finanziari, la chiusura dei canali illeciti e il sequestro di alcuni farmaci.